Giuseppe, la tua attività di promoter sportivo e culturale ha portato dei risultati molto belli nella fine del mese di giugno? Sì, non solo con la musica, quindi con la tradizionale festa della musica che ogni anno realizziamo insieme a altre 600 località italiane, quindi nella data del 21 giugno, ma una data storica, quella del 28 giugno, che ci ha visto quindi intitolare, siamo la prima località in Italia che lo facciamo, questo campo di calcio di Villaggio Palumbo, di proprietà della famiglia Calaminici e della scuola calcio Silareggio, al noto e compiando campione Paolo Rossi. Due momenti in cui hanno caratterizzato l'inizio di questa stagione estiva e daremo il nostro contributo anche a settembre, quando ci sarà bisogno di dare nuova linfa con altre iniziative, su tutta la Sila in Rosso, l'evento Ferrari singolare, la gradinata sotto le stelle, per poi chiudere con il premio Sila, che quest'anno faremo per la prima volta nella cittadina di Savelli, nella data del 16 settembre. È un continuo impegno il tuo e nello stesso tempo eventi che sono a livello nazionale? Sì, poi luglio e agosto, soprattutto agosto, stiamo cercando di realizzare quindi con la famiglia Baff, con i villaggi Baff e Palumbo, una serie di iniziative particolari che spaziano non solo dal mototurismo, ma anche dall'avioturismo, un settore molto caro, fino ad arrivare alla musica dal vivo e repropria, esposizioni, mostre di artigianato e via dicendo, ma che stanno ponendo le basi per un progetto di più lungo termine, che possa davvero dare un contributo sostanzioso a questa parte della Sila, a cui tutti quanti noi siamo particolarmente legati. Arrivano turisti? Ai turisti, oltre ai tour operatori con i quali già collaboriamo e quindi con i proprietari di case dei villaggi di Baff e Palumbo, stiamo cercando appunto con questi eventi di instaurare delle forme di collaborazioni dirette con quelle che sono le principali associazioni di categorie e poi con il mondo dei giovani, perché c'è tanto bisogno di coinvolgere attivamente i giovani, perché sono loro il futuro e sono loro quella fetta di potenziali turisti che possiamo avere da qui a partire dai prossimi mesi di agosto. Quando si terrà il premio Sila? Il premio Sila, a differenza degli altri anni, dopo il Covid abbiamo deciso di anticiparlo di due mesi, quindi lo stiamo facendo ogni anno il mese di settembre. Quest'anno lo faremo il 16 settembre nella cittadina di Savelle. Non posso che ringraziare il sindaco Frontera e la locale Prologo con il presidente Germinara che ci hanno invitato.